La parola di oggi è boicottaggio. È una parola piuttosto conosciuta e usata spesso. La definizione dei dizionari spiega che essa e il corrispondente verbo boicottare indicano l'atto di frapporre un ostacolo alle riuscite di qualcosa. La troviamo spesso usata quando si fa il resoconto di burrascose sedute del Parlamento, durante le quali una parte vuole impedire, utilizzando cavigli regolamentari, che la maggioranza raggiunga il suo scopo. Oppure quando durante uno sciopero la parte padronale fa ricorso a espedienti, quale l'utilizzo di lavoratori straordinari. La usiamo anche nel linguaggio comune e familiare quando anche in tono scherzoso si rimprovera a qualcuno di rallentare l'attività di qualcun altro. Quello che forse non tutti sanno è che il termine è una parola lato senso eponima, in quanto deriva dal nome del capitano inglese Charles Cunningham Boycott, vissuto nella seconda metà del 1800. Boycott, dopo il periodo militare, iniziò a fare l'amministratore di un ricco proprietario terriero irlandese. Boycott vessava i contadini suoi dipendenti, li trattava piuttosto male, e la Liga Irlandese dei Lavoratori della Terra, il sindacato di allora, adottò un'azione non violenta contro di lui, convincendo i braccianti a non lavorare più. Al tentativo di Boycott di ingaggiare lavoratori non sindacalizzati e disposti a ogni compromesso, i cosiddetti cromiri, il sindacato dei braccianti reagì, riuscendo, e non solo con parole di convincimento, a isolarlo. I vicini di casa iniziarono a non parlargli, in chiesa nessuno si siedette più vicino a lui o gli rivolse la parola. Non fu più servito nei negozi, non ebbe più braccianti da ingaggiare. La situazione diventò di rilevanza nazionale, in quanto lo stesso Boycott la segnalò ai giornali inglesi. Malgrado il tentativo delle autorità di sostenerlo, tuttavia alla fine Boycott fu costretto a lasciare l'incarico e a tornare in Inghilterra.